Fortunato Cellino in arte Don Pietro Savastano, nelle vesti di Don Pietro Savastano se vogliamo, comunque un ibrido tra la realtà e la finzione, annuncia in un breve spot praticamente il ritorno di Capo Plaza il 22 gennaio in uscita il disco nuovo, chissà. Ora al di là di questo discorso un po' trash perché comunque il video è un po' trash anche se ha il suo perché, al di là di questo tra l'altro oggi è uscito il disco di Peppe Socks, bella bomba, bel disco, ex compagno del Plaza, vecchi tempi, vecchi ricordi. Comunque, cosa ci aspettiamo da Capo Plaza adesso? Ecco, io direi da ciò che si è visto, da quel poco che si è sentito nello spot, io credo che sia un disco pieno di fotta, io credo che il ragazzo sia carico, lo percepisco proprio che sta bello carico, che farà un disco di canzoni che non si distaccano molto dal passato secondo me. Secondo me sono un sacco di canzoni in stile Capo Plaza vecchio per quanto riguarda musicale, new school, che suona bene con dei beat che pompano e allo stesso tempo però vuoto di contenuti, quindi praticamente Rivalsa, Oggi Sono Qui, Confermo, nuovo disco, Scelte Vecchie. Io credo che sia questo, semplicemente magari ci sarà un rinnovamento dello slang, però fondamentalmente secondo me non ci sarà un rinnovamento dei concetti. Il concept appunto è quello alla quale ci ha abituati già e questo secondo me è un grosso limite, però effettivamente lui è così che è sempre stato ed è così che ha sempre funzionato, quindi sarebbe un rischio grande cambiare. Magari ci sarà qualche traccia in cui si racconterà un po' di più, però sempre filtrato da tutta questa forma diciamo. Quindi io non ho aspettative da un punto di vista pratico, lirico, però secondo me sarà un disco che dal punto di vista musicale spaccherà. Cioè questo trailer, queste poche note che abbiamo sentito mi puzzano tanto di ulteriore rivalsa, di voglia di andare ancora più in alto. Quindi secondo me sarà una ricerca della hit vera. Adesso che Sferebasta ha aperto diciamo al mercato internazionale la trappa italiana, se così vogliamo, è come se avesse creato un nuovo traguardo da raggiungere, è come se avesse alzato nuovamente l'asticella della competizione. Non sto dicendo che ci sono fitti internazionali nel disco di Capo Plaza, non lo so, se ci saranno li annuncerà, però ecco sicuramente c'è voglia di dimostrare ancora di più. Questo credo di sì. Quindi vedremo. Sicuramente sarà un disco più bello di quello di Sfera, visto che ha tanti numeri, però a fatti concreti non mi è piaciuto affatto. Non lo so, forse è giusto Baby, mi suona bene, ma le altre proprio non mi è sembrato a livello dei precedenti da un punto di vista commerciale, parere mio personale. Però sicuramente questo disco di Sfera, al di là di tutte le critiche che potrebbe ricevere e riceverà magari dal sottoscritto, secondo me suonerà bene. Secondo me, insomma, ci sarà da divertirsi. Comunque commenteremo l'evoluzione che ci porterà a questo progetto passo dopo passo. Per ora ci fermiamo qui.